buongiorno salve buongiorno chiamo da redd orange vorrei parlare col tecnico ma utenzione sì sono io mi dica tutto salve ho un problema in questo centro di lavoro un fanuc robodrill alfa di 21 lb5 ok qual è il problema non funziona il refrigerante ok ha provato premendo il tasto emulsionante o tramite il controllo ho provato premendo il tasto emulsionante questo ok ora provi ad entrare in modalità mdi sì ok ora prema il tasto program che le cerchio ok si quello lì sì perfetto sì ok ora in basso a sinistra c'è un tasto verde ve lo prema e mi dica se funziona no funziona ok allora è un problema del sensore deve andare nella parte posteriore della macchina sì ok lì c'è un sensore di forma cilindrica ok si sono dietro il sensore qual è questo no no questo qui che le cerchio ah ok ok ci sono dei numeri accesi no il sensore risulta spento ok allora sicuramente non fa ben contatto lo sviti e lo riavviti sì ok ora sembra che va ok a questo punto può tornare davanti alla macchina e provi nuovamente a premere il tasto emulsionante poi mi dica se funziona sì sì funziona perfetto la ringrazio di nulla buona giornata e buon lavoro